Si è tolto la vita Giuseppe Santoleri in cella per scontare una condanna a 18 anni di reclusione per l'omicidio della moglie Renata Rapposelli in concorso con il figlio Simone. Il 77enne era stato condannato in via definitiva per il delitto avvenuto il 9 ottobre del 2017 a Giulianova. Il cadavere fu ritrovato dopo tre mesi nelle campagne di Tolentino nel Maceratese.